E' pesantissimo il bilancio del massiccio bombardamento aereo israeliano effettuato questa mattina contro un campo profughi di Kanyunis nel sud di Gaza. Secondo il Ministero della Sanità palestinese sono almeno 71 le persone uccise e quasi 300 quelle ferite. L'esercito israeliano fa sapere che obiettivo del raid era il leader di Hamas, Deif, secondo Tel Aviv sarebbe rimasto ferito. Ma Hamas smentisce. Dopo le tensioni dei giorni scorsi sia Tajani che Salvini garantiscono sulla tenuta dell'esecutivo nonostante le evidenti divisioni in politica estera dalla Nato alle armi a Kiev fino alle nomine europee. Il leader della Lega ha ribadito il suo secco no al bis della von der Leyen sostenuta da Tajani mentre la Premier ha concesso aperture ma non ha ancora deciso se sostenere una nuova maggioranza Ursula. Avrebbero ridotto in schiavitù 33 braccianti indiani. Per questo due connazionali residenti in provincia di Verona sono indagati accusati anche di intermediazione lecita e sfruttamento. In cambio di un permesso di impiego stagionale i lavoratori erano costretti a versare 17 mila euro e prestare la loro mano d'opera tra le 10 e le 12 ore giornaliere sette giorni su sette a due indagati sequestrati anche beni per circa 475 mila euro. Spasmodica attesa a Milano per i concerti di Taylor Swift a San Siro oltre 160 miga i fan da ogni parte del mondo per le due date italiane del tour da oltre 2 miliardi di dollari. Cifre che fanno della cantante americana un fenomeno musicale e di costume ma anche macroeconomico. La cosiddetta Taylor Swift economy in grado di muovere miliardi di dollari e influenzare persino gli equilibri politici di un paese. Come lo scorso anno sarà il Karaz Djokovic la finale di Wimbledon contro il serbo tornato a livelli altissimi. Lorenzo Musetti si è dovuto arrendere in soli tre set. Oggi il sogno italiano della prima vittoria sull'erba londinese porta il nome di Jasmine Paolini che affronterà la cieca Barbara Crecicova, già campionessa slam Roland Garros e ex numero 2 del mondo. Dunque una buona giornata, un buon sabato dal telegiornale della 7. Cominciamo dalle immagini e le notizie drammatiche entrambe che arrivano ancora dalla striscia di Gaza. Siamo nella zona sud, siamo nella zona dell'università di Al-Aqsa. Lì ha colpito un nuovo raid israeliano, ha colpito laddove molti profughi palestinesi erano sfuggiti, sfollati per trovare sicurezza dopo aver perso tutto. Un bilancio ancora da definire, almeno 70 morti, sono centinaia i feriti e non c'è chiarezza ancora sull'obiettivo. Secondo alcune fonti sarebbe stato il leader di Hamas Deif, secondo altre sarebbe stato colpito anche gravemente, ma anche su questo non c'è una lettura comune. Cominciamo da qui. L'esercito israeliano concentra ancora una volta su Khan Yunis le operazioni militari contro Hamas. Un massiccio raid aereo ha bersagliato la zona di Al-Mawasi. Le esplosioni violentissime hanno scavato un enorme cratere e seminato il terrore. Sarebbero, secondo fonti mediche palestinesi, almeno 70 civili palestinesi uccisi, quasi 300 feriti trasportati negli ospedali più vicini. Ma il bilancio rischia di aggravarsi perché un numero imprecisato di persone sarebbe intrappolato sotto macerie, terra e detriti. Al-Mawasi, che ospita migliaia di sfollati fuggiti nei mesi scorsi all'avvio delle operazioni militari israeliane nella parte meridionale della striscia, era stata dichiarata zona umanitaria sicura e il segretario dell'ONU, Guterres, è tornato ad accusare Israele colpevole di emettere ordini di evacuazione che costringono i palestinesi a muoversi come palline di un flipper umano. Gli obiettivi degli attacchi erano due capi militari di Hamas, Mohamed Deif e Rafa Salameh. Si nascondevano in un complesso civile recintato in un'area aperta e non in una tendopole di sfollati, ha comunicato poco fa l'esercito israeliano. E secondo l'intelligence militare Deif sarebbe rimasto gravemente ferito. Ma Hamas smentisce seccamente, è una sciocchezza che fosse lui l'obiettivo dell'attacco. Tutti i martiri sono civili e quanto accaduto è una grave escalation nella guerra genocida. All'Arabia riferisce invece che Salameh, il secondo comandante, sarebbe stato ucciso. In ogni caso, questo nuovo bagno di sangue renderà ancora più impervio il compito della diplomazia, con Hamas che ha già detto che l'attacco dimostra che Israele non è interessata ad un accordo. Si continua comunque a trattare. Biden, che a fine mese riceverà la Casa Bianca a Netanyahu, ha annunciato un'intesa generale che prevede una tregua e il rilascio degli ostaggi. Ma la Casa Bianca, rimasta scottata più e più volte, resta prudente e specifica che il lavoro è tutt'altro che finito. Sì, perché è una settimana in cui si sono rincorse le voci di una possibile intesa tra Hamas e Tel Aviv. Questo è uno dei conflitti in corso. È quello a cui ha fatto più volte il riferimento Biden in questi giorni per sottolineare quanto la situazione sia complessa e quanto ci sia bisogno della sua esperienza da presidente americano, seppur il più anziano di sempre, per continuare il lavoro svolto. Nel frattempo però il passo indietro è atteso anche da parte dei democratici. Molti di quelli che garantiscono i fondi di una campagna elettorale costosissima per ora hanno bloccato gli aiuti. Io non vado da nessuna parte, correrò e vinceremo. Il presidente Joe Biden ne è convinto e lo ripete ancora in Michigan, uno degli stati cruciali. Davanti a una platea di sostenitori appare lucido, determinato, nessuna esitazione nel parlare. Conferma di essere l'unico candidato in grado di battere Donald Trump a novembre e va dritto al punto lanciando un duro attacco all'avversario. Trump è un perdente e un criminale, dice agli elettori di Detroit. Un atteggiamento sicuro, quello del presidente americano, che ha l'obiettivo di dissuadere i critici e tentare di allentare i timori di chi crede debba fare un passo indietro. Timori alimentati anche dalle gaffe in cui è inciampato nell'attesissima conferenza stampa a termine del summit NATO, vista da oltre 24 milioni di americani. L'inquilino della Casa Bianca, infatti, chiamando il presidente dell'Ucraina Zelensky, Putin, e scambiando il nome della sua vicepresidente Kamala Harris con quello di Trump, ha ingrossato la fronda interna al suo partito. Altri quattro deputati si sono schierati apertamente per un suo ritiro, portando il numero totale a 18. Un pressing in tal senso è arrivato anche da alcuni importanti finanziatori DEM, che hanno deciso di congelare 90 milioni di dollari destinati alla campagna elettorale fin quando non arriverà un altro candidato a prendere il suo posto. La situazione così tra i democratici a quattro mesi dal voto si mostra tesa, tanto che ci sarebbe stato un confronto tra Barack Obama e Nancy Pelosi d'accordo nel valutare concretamente la possibilità di chiedere a Biden nelle prossime ore di fare un passo indietro, mentre una ricerca interna prova a sondare il terreno su un piano B, domandando via SMS ai sostenitori se accetterebbero come candidata Kamala Harris. Una soluzione che potrebbe mischiare le carte in tavola, ora che Trump viene dato in vantaggio sia in molti stati chiave, sia a livello nazionale. In vista della convention repubblicana della prossima settimana, inoltre, proprio per garantire al tycoon uguale visibilità social rispetto a Biden, Meta ha annunciato di aver rimosso le ultime restrizioni imposte sui suoi profili Facebook e Instagram dopo l'assalto a Capitol Hill. Andiamo ad aggiornare anche la situazione in Ucraina, le notizie dal campo, le preoccupazioni che riguardano costantemente anche tutta quella zona della centrale di Zaporizia, di fatto sotto controllo russo. Quanto resisterà Kiev su una guerra che più lunga è e più la Russia ha i mezzi, i modi di gestire molto, dipende anche dal canale diplomatico, che porterà probabilmente Zelensky in Irlanda e che vede l'iperattivismo, non sempre concordato con l'Unione Europea, del Premier Orban. Ucraina, sicurezza europea e democrazia. Saranno questi i temi di cui discuteranno i principali leader europei durante il vertice che si terrà giovedì prossimo nel Blenheim Palace a Woodstock nel Regno Unito. Secondo una fonte del quotidiano britannico The Guardian, al 90%, sarà presente anche Volodymyr Zelensky, che dopo aver conosciuto il neopremier Keir Starmer, alla tre giorni del vertice nato di Washington appena conclusa, avrà l'opportunità di incontrare una delegazione più ampia del governo lavorista, pronto a ribadirgli il sostegno della Gran Bretagna. Quarto incontro della comunità politica europea, un format lanciato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, nato dall'idea del presidente francese Emmanuel Macron, la conferenza di giovedì sarà per Starmer un'occasione molto significativa per ospitare fino a 50 leader europei, tra i quali per la prima volta anche il presidente turco Erdogan. Macron ribadirà il forte messaggio di sostegno all'Ucraina da parte dei 27 stati dell'Unione Europea. Sempre secondo il Guardian, sabato 20 luglio, Zelensky sarà per la prima volta in Irlanda, dove vedrà il capo del governo Simon Harris. Ma in queste ore continua a far parlare l'incontro dell'attuale presidente di turno dell'Unione Europea e premier ungherese Viktor Orban, col candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, a Mara Alago. Dopo Zelensky a Kiev, Putin a Mosca e Xi Jinping a Pechino, il capo del governo di Budapest condivide su X questo video con il post. Abbiamo continuato la missione di pace. Donald Trump ha dimostrato durante la sua presidenza di essere un uomo di pace e lo farà di nuovo. Poi ci sono i fronti interni alla maggioranza che riportano soprattutto all'atteggiamento da tenere nell'aiuto da dare un bene a Kiev. E' questo stato uno dei terreni di scontro tra Salvini e la Meloni in particolare, ma ci sono diverse questioni che segnalano le distanze all'interno dell'esecutivo, tanto che sia Tajani che Salvini nell'ultime ore hanno tenuto a rassicurare comunque sulla solidità dell'alleanza e soprattutto sulla durata dell'esecutivo in carica. Ritengo che siano tutte questioni fisiologiche, poi nella sostanza non c'è nulla. Il vicepremier e il ministro degli esteri, Antonio Tajani, prova a spegnere le polemiche dei giorni scorsi tra la premier e la Lega. Siamo tre partiti diversi e in Europa siamo sempre stati divisi. Aggiunge il segretario di Forza Italia, ospite di Omnibus stamattina, che ha anche negato un'altra spaccatura, stavolta interna al mondo forzista, con Marina Berlusconi. Centrodestra diviso dunque sulla scelta della Nato non solo di continuare ad aiutare militarmente l'Ucraina, ma di dare il via libera all'invio di missili difensivi. La Presidente del Consiglio si è definita fiera delle decisioni prese a Washington, appoggiata dai forzisti, nettamente contrari ai leghisti. Divisioni che si riflettono però anche in sede europea alla vigilia del voto per la Commissione. I tre partiti della maggioranza appartengono a tre gruppi diversi e sulla conferma di von der Leyen andranno in ordine sparso. Voteranno la Lega con Salvini, che assicura che non ci sarà assolutamente nessuna ripercussione sul governo. Ci hanno chiesto di governare per cinque anni, aggiunge Salvini, e governeremo per cinque anni al meglio delle nostre possibilità, più che al voto di Bruxelles. Però il segretario della Lega guarda oltreoceano. Incontrerò Trump prima di novembre, spero vinca. Il voto in USA sarà determinante per l'Europa, l'Italia e tutto l'Occidente. Voterà a favore della popolare von der Leyen, invece Forza Italia, che del PPE è partito di peso. Anche se lo stesso Tajani lancia un avvertimento alla Presidente uscente, la sinistra non condizionerà più la Commissione. Un assist per Giorgia Meloni, che nel doppio ruolo di Presidente del Gruppo dei Conservatori e di Presidente del Consiglio Italiano, non ha ancora deciso se sostenere o no una nuova maggioranza a Ursula. Abbiamo un incontro con von der Leyen in programma per martedì. Ascolteremo la sua piattaforma programmatica, soprattutto su Immigrazione e Transizione Verde, e decideremo, dice Nicola Procaccini, co-presidente di ECR. Sullo sfondo, non di minore importanza, la partita dei commissari. Il governo punta ad un portafoglio pesante per Raffaele Fitto, sponsorizzato dallo stesso Tajani. Fitto sarebbe, secondo me, un eccellente commissario perché conosce i meccanismi e le persone a Bruxelles. Capitolo giustizia se ne è parlato molto questa settimana, non solo per la riforma voluta da Nordio, ma anche per il capitolo che ha travolto politicamente la regione Liguria. È arrivata la decisione dei giudici del riesame che hanno lasciato ai domiciliari il governatore Totti. A quei giudici, in qualche modo, risponde con una lettera al suo legale lo stesso governatore che aggiunge anche una richiesta. Anche quella ha già fatto molto discutere. C'è un passaggio molto chiaro nella lunga lettera che Giovanni Totti ha fatto avere al suo avvocato Stefano Savi il giorno dopo la decisione del Tribunale del riesame che ha negato la revoca degli arresti domiciliari al Presidente della regione Liguria dal 7 maggio nella sua villa ad Amelia, nello Spezzino. È chiaro che oggi per me la poltrona di Presidente è maggiormente un peso che un onore. Forse sarebbe stato più facile, fin da subito, sbattere la porta ma la presidenza non è un bene personale, scrive Totti, chi aggiunge. Vedo come una liberazione oggi poter ridare la parola agli elettori perché sono certo che sapranno giudicare quello che è stato fatto e sceglieranno per continuare a vivere e lavorare in una Liguria libera. Una sorte di apertura alle emissioni che porterebbe al voto anticipato? Forse, anche se le intenzioni di Totti sarebbero quelle di attendere la decisione della Corte di Cassazione a settembre e quindi restare in carica sino a quella data. Nell'ambito della maxinchiesta sulla corruzione Liguria anche la maggioranza in regione sembrerebbe essersi spaccata sull'opzione di ricorrere subito alle urne come invece chiede a gran voce l'opposizione che in settimana scendere in piazza a manifestare. Totti nell'attesa vorrebbe incontrare gli alleati e proprio a Genova lunedì arriverà Matteo Salvini per un incontro pubblico sulle infrastrutture Liguri mentre il legale di Totti ieri ha presentato un'istanza per far incontrare il suo assistito con il ministro dei Trasporti e il segretario della Lega. Non è detto che si faccia però in tempo con le autorizzazioni da parte del GIP. Un'altra richiesta riguarda gli incontri con i due assessori Gianpedrone Scaiola ma i giudici hanno spiegato che il presidente non può tenere vertici di natura amministrativa. Intanto il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia si è detto preoccupato che due consiglieri laiche del CSM abbiano chiesto l'apertura di una pratica disciplinare nei confronti del giudice del Tribunale del Riesame di Genova che hanno rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per il governatore Ligure. La pagina della cronaca è innanzitutto l'ultimo saluto a Marcon in provincia di Venezia il funerale di Alex Marangon a 25enne trovato morto in un isolotto del fiume Piave il 2 luglio scorso dopo aver partecipato a un rito sciamanico. Al termine della messa all'esterno della chiesa vediamo insieme alcune immagini gli amici di Alex gli hanno dedicato musiche e danze hanno acceso fumogeni colorati facendo volare in aria dei palloncini. Secondo il legale di famiglia l'aggressione rimane l'ipotesi più seria e valida per la morte del giovane. Una valutazione fatta sulla base dei risultati di medicina legale e degli ultimi accertamenti ha aggiunto. A proposito di cronaca storie che vi raccontiamo sempre più frequentemente sempre più frequentemente non riguardano solo il sud del nostro paese ancora caporalato ancora sfruttamento andiamo in provincia di Verona. Sorridenti appena arrivati in Italia i 33 cittadini indiani si pregustavano le sorti di un futuro migliore. In queste foto di gruppo inviate alle loro famiglie sono felici per la nuova vita che li aspetta nelle campagne veronesi. Non potevano immaginare che avrebbero vissuto l'inferno malmenati e vessati da due connazionali due fratelli indiani tra i 40 e i 50 anni che li impiegavano come braccianti. I due sono ora indagati per riduzione in stato di schiavitù intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Ai giovani, tutti tra i 20 e i 35 anni veniva chiesto di pagare 17 mila euro per un fantomatico permesso di soggiorno temporaneo. In alcuni casi i braccianti firmavano una sorta di cambiale con i parenti per pagare la cifra oppure erano costretti a indebitarsi con i caporali. La loro giornata lavorativa iniziava alle 5 e 30 di mattina in turni da 10-12 ore. Venivano prelevati dai due fratelli e caricati su dei camion adibiti al trasporto ortofrutticolo nascosti dietro le cassette e trasportati in campi di meloni, zucchine e pomodori. La paga di circa 4 euro gli era trattenuta per ripagare il debito. In alcuni casi al saldo della somma i contadini indiani veniva chiesto di pagare un'ulteriore cifra di 13 mila euro per un permesso di soggiorno definitivo che non sarebbe mai arrivato. Per fargli terrorismo psicologico come si vede da queste immagini caporali bruciavano i finti documenti davanti ai loro occhi. Le perquisizioni della Guardia di Finanza di Legnago si sono svolte in tre alloggi a Colonia Veneta di proprietà dei caporali che per assicurarsi la sottomissione degli operatori agricoli gli sottraevano i passaporti. Le costringevano a non abbandonare questi alloggi fatiscenti al di fuori degli orari lavorativi e a vivere in condizioni precarie e venivano malmenati se provavano a richiedere i propri documenti. I giovani indiani sono stati accolti da alcune onlus regionali per tutelarli da eventuali ritorsioni. Uno dei due caporali è ancora in Italia a Colonia Veneta mentre l'altro è tornato in India. Una notizia ancora internazionale e abbiamo parlato spesso della vicenda di Alec Baldwin che era coinvolto in una vicenda giudiziaria piuttosto complicata è stata archiviata per un vizio procedurale il suo procedimento. Rischiava l'attore una condanna a 18 mesi per omicidio colposo è un fatto che risale al 2021. Una direttrice della fotografia del film Rust Hutchins fu uccisa sul set da uno sparo partito dall'arma di scena dell'attore statunitense protagonista e peraltro produttore di quel film. Il giudice ha archiviato il procedimento contro Baldwin perché l'accusa ha nascosto alla difesa a prove cruciali cioè i proiettili collegati al caso. L'accusa nei confronti del gattore che ha pianto lo vedete alla lettura della sentenza non potrà più essere ripresentata. adesso attesa quasi finita per i fan di Taylor Swift sapete che c'è un tour mondiale partito a marzo dello scorso anno 150 date che hanno spostato migliaia di persone molte anche da oltreoceano che conti in tasca hanno deciso di venire in Italia per assistere a uno spettacolo di oltre tre ore oggi e domani a Milano ma soprattutto dove può arrivare questa cantante al di là dell'impatto della sua musica un impatto economico che emoziona molti ma spaventa anche qualcuno Anche Milano si prepara al ciclone Taylor Swift oggi e domani la nuova regina del pop l'artista dei record è a San Siro col suo Eras Tour cantautrice produttrice e attrice la ragazza della Pennsylvania negli ultimi 5 anni è diventata un fenomeno di costume globale come i Beatles e Michael Jackson già studiato nelle università di Harvard e Stanford Nell'era social il carisma della star e la forza dell'influencer sono il combinato disposto perfetto per quella che gli analisti oggi chiamano Taylor Swift Economy patrimonio personale di 1,3 miliardi di dollari questo suo tour potrebbe superare 2 miliardi 11 dischi all'attivo 14 gremi musicali più di Frank Sinatra l'ultimo album The Tortured Poets Department e un miliardo di stream in una settimana 300 milioni di ascolti nelle prime 24 ore ovunque suoni muove milioni di dollari nel mondo secondo Bloomberg nel 2023 il PIL degli Stati Uniti è cresciuto di 4,3 miliardi di dollari solo grazie a 53 dei suoi spettacoli un rapporto della Federal Reserve ha attribuito il merito di aver rilanciato l'industria del turismo nazionale in Inghilterra si parla già di sweetflation l'inflazione che grazie ai suoi concerti secondo gli analisti porterebbe la banca di Inghilterra a ridurre i tassi a Milano sono previste 160 mila persone il 20% è straniero spendendo in hotel bar ristoranti per un indotto complessivo economico stimato in 180 milioni di euro è già tutto esaurito in alberghe strutture ricettive con i consumatori che denunciano prezzi alle stelle fuori controllo 950 euro a notte per una camera per questo i più fedeli si sono già posizionati con le tende fuori da San Siro qual è il segreto di questa ragazza già in copertina del Time come persona dell'anno in grado di influenzare anche la moda e la politica secondo alcuni analisti americani potrebbe essere decisiva per la vittoria di Biden si era già schierata contro Trump nelle midterm nel 2018 con un solo post sui social a settembre scorso ha spinto 35 mila giovani americani a registrarsi sulla piattaforma elettorale la amano figli e genitori perché è un artista tranquillizzante gli Swifties così si chiamano i suoi fan si incontrano ai concerti e si scambiano i braccialetti dell'amicizia perché Taylor unisce e crea legami tra le persone dunque di nuovo insieme non ci sono aggiornamenti importanti dunque il tempo di ricordarvi i prossimi appuntamenti telegiornale ritorna questa sera alle 20 noi se volete ci vediamo domani alle 13.30 buon fine settimana a voi e a domani a voi Grazie a tutti.